La prima fiera del vino al mondo Il vino al mondo è ancora strapieno, avrà ancora più aziende lombarde. L'Oltrepo in particolare ha creato attorno a quel piccolo slot ancora di più una sua immagine, una sua forza fatta da piccole viette con stand personalizzate e al centro ci sarà questo grande evento del Crochet. Quest'anno non sarà più un lancio ma sarà già una sostanza, presenteremo già tutte le nuove etichette e una in particolare ci sta molto a cuore che è l'etichetta consortile che abbiamo selezionato tra tutti i Crochet che sono in produzione. Lanciamo quest'anno l'etichetta consortile per dare comunque una linea, una strategia al primo prodotto italiano che non solo ha le bollicine più fini e nobili ma ha nel suo colore l'immagine del pilo nero. Sappiamo di avere su di noi una grande responsabilità, veniteci a trovare perché il Crochet rimane oggi all'interno del panorama spumantistico una delle novità assolutamente più originali e io dico anche più buone tra il mondo delle bollicine. Grazie.